Buonasera amici, benvenuti in un nuovo video sul mio canale. Questo è il post partita di Monza Entella, partita che ha visto Ibagai vincere per 5-0 grazie alle reti di Kevin Prisboateng doppietta, Dani Mota e la doppietta di Mario Sampirisi. Grande prestazione del Monza che ha dominato dal primo all'ultimo minuto. Ovviamente Entella non è una formazione di primo livello, naviga nei bassi fondi della classifica la squadra Ligure, però la Serie B è un campionato parecchio complicato, come abbiamo visto. E niente, partita è iniziata davvero bene per gli uomini allenati da Chris Embrocchi, con la doppietta di Kevin Prisboateng e il principe di Monza. Boa, Boa, Teng, Teng, che con due colpi di testa porta sul 2-0 Ibagai. Poi il terzo gol arriva nel secondo tempo con l'ingresso di Frattesi. Se ne va sulla destra, vince il rimpallo, la mette per Gitkioer, guarda in mezzo, raso terra. C'è Dani Mota che ha la piazza all'angolino basso per il 3-0, grande gola di Dani Mota, che poi è stato costretto ad uscire per un fastidio alla caviglia. Al suo posto è entrato Mirko Maric. E niente, è poi arrivato il 4-0 con Mario Sampirisi, cross di Davide Frattesi. Sampirisi da fuori aria, fa partire un tiro imprendibile per il portiere dell'Entella. E 4-0 per il Monza, poi arriva il 5-0 sempre di Mario Sampirisi. Con un bel tiro in aria, controlla la palla e tira. E niente, sono parecchio soddisfatto, sono felicissimo per la prestazione, per il risultato. E niente, ora dobbiamo pensare subito alla partita di sabato alle 16 allo stadio Adriatico di Pescara, contro Pescara. L'unica cosa sinceramente che mi disfiace è che non sono potuto andare allo stadio, ovviamente, perché gli stadi sono chiusi. E niente, proprio mi manca andare allo stadio, salire i gradini, sedermi al posto, proprio mi manca l'atmosfera dello stadio. E vabbè, sperando in un futuro migliore che si possa tornare agli stadi. Mi godo questo 5-0 del Monza contro Lentella e, come detto, testa sabato alla partita di Pescara. E niente, io vi invito, come sempre, a iscrivervi se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina per ricevere tutti i video. A lasciare un mi piace e a commentare la grande vittoria del Monza con le vostre impressioni, i vostri commenti. E niente, un saluto a tutti, ci rivediamo in un prossimo video. Sempre, forza, Monza, dai bagai!